Io sono molto felice di essere un giocatore di Olimpia. Grazie a tutti i nostri spettatori di Olimpia, questo è un passo molto importante nella tua carriera. Io sovo l'importanza di essere un giocatore di Olimpia e darò tutto per rendere pronto per competire per tutti i giocatori che stiamo giocando. Milano è uno dei migliori club in Europa e è stato molto importante per me arrivare al livello più alto per competire in Euroleague. E anche per giocare in un altro paese, in Italia, per ottenere la possibilità di giocare in Lega e per competire per ottenere il tourno locale è molto importante. E poi il progetto che Ettore sta construendo è molto importante per me, anche la città è una meraviglia città. La mia famiglia e io siamo molto felici di vivere qui e speriamo alla prossima. La mia famiglia è la mia energia, ho provato a portare una energia positiva per il team, per il club, per i miei team e per tutti. E la competizione. E io mi piace sempre giocare con il mio capito e con il mio capito di venire. E ho lavorato davvero difficile per essere al livello più alto. Ciao ragazzi, ci vediamo presto! Ciao! 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 Ciao!